In un'antologia concepita espressamente per il mercato italiano, mercato editoriale italiano nel 60, se non ricordo male, sulla sinistra hegeliana, Lovit prepose una corposa prefazione e mi riallaccio a quello che diceva il dottor Bruni, il problema del rapporto tra teoria e prassi nel marxismo, nel senso, l'undicesima tesi su Feuerbach, così lapidariamente dice, i filosofi fino ad oggi hanno soltanto, cito a memoria, hanno soltanto e diversamente interpretato il mondo, si tratta ora di trasformarlo. Ecco, questa, l'undicesima tesi di Feuerbach, viene rigettata integralmente dal Lovit maturo. La teoria ha una sua teoria, io non ho studiato greco, però significa visione degli dèi, visione di Dio, visione in cui in questo senso non può essere minimamente, cioè vive la teoria, è una funzione sacrale, è un accesso ad una dimensione che non ha niente a che fare con la contingenza, tantomeno con la storia, con la cronaca politica e con l'organizzazione di una prassi politica. Quindi il Tardo Levit, anche il Tardo Levit, il Tardo Levit insisterà molto sulla degenerazione della teoria nel marxismo, degenerazione che è già in atto in Hegel, in Feuerbach, in Stirner e in molti altri autori rappresentati in quella silloge, in quell'antologia. Quindi il tema dell'autonomia della teoria rispetto alla prassi è fondamentale in Levit critico di Marx, ma è anche un interrogativo terribile, terribile anche per chi voglia oggi ritornare a fare teoria marxista, sembra uno simolo, se tu consideri che la teoria in una funzione propedeutica, prodromica, ancillare rispetto alla prassi, in qualche modo ne depotenzi l'autonomia e paradossalmente ne depotenzi anche la capacità di intervenire sulla prassi rivoluzionaria.